io di nuccio ci siamo conosciuti a milano circa dieci anni fa tramite un mio amico mi ha detto vieni con me stasera che voglio presentare una mia amica anche lei calabrese che si è trasferita da un po di tempo qui è stato subito colpo di fulmine e penso sì sì non prendete la sprovvista se uno può sbagliare sposta poi paga a casa paga le conseguenze la prima cosa che mi ha detto è guarda che io sono molto impegnato non vado mai in vacanza per me prendermi due settimane di ferie cioè è proprio una cosa inimmaginabile però poi gli ho fatto cambiare un po idea abbiamo organizzato un viaggio a parigi e in quell'occasione le ho chiesto di sposarmi quello che ti sei inginocchiato no non esageriamo non esageriamo che poi va in televisione prima dicevano io fossi sposato con la destilleria sono sposato con lei e abbiamo costruito una bellissima famiglia e ho due bellissimi figli dal nostro amore sono nati due meravigliosi bambini clelia di quattro anni giuseppe di tre anni